Sgombrato il campo da questo aspetto che è sicuramente il principale, quindi adesso già siete un pochettino più smaliziati sulla materia, vi faccio la domanda da 10 milioni di dollari su cui spesso appunto si diffondono le leggende metropolitane. Uno è un autore, un creativo che ha realizzato una di queste 10 cose, di questi 10 tipi di opera dell'ingegno, quindi uno scrittore, un musicista, un disegnatore, un programmatore, uno sviluppatore di software, come diventa titolare del suo diritto d'autore? Uno che fa una di queste cose, prego se volete ipotizzare, no nessuno, cioè chi di voi è creativo? Se siete qua probabilmente avete un'attività, no? Lei dice semplicemente mettendo il suo nome, che è una risposta, semplicemente cioè collegando l'opera alla sua, secondo voi è sufficiente? Vendendola a chi però? A qualcuno? Sì, così non... è un po' generico. Dimostrandone l'originalità. Eh sì, ma dimostrandone l'originalità non risponde, nel senso ho capito dove può arrivare, però aggiungimi un pezzo. C'è un po' generico di dadare originalità. Ok, allora, quindi, sostanzialmente, secondo te il diritto d'autore scatta nel momento in cui c'è una datazione certa, c'è un procedimento che dà una data certa, questo mi stai dicendo. Altre ipotesi, le raccolgo così, tipo brainstorming, non abbiate paura. Allora, ecco, allora, ok, abbiamo già aggiunto un pezzo. La signora dice semplicemente mettendo il mio nome. Voi dite, non solo mettendo il mio nome ma anche rendendola pubblica. Lui ha detto vendendola, ok, e lui dice sostanzialmente applicandoci una data certa. Nessuno mi ha detto una delle classiche risposte? Prego, no, vuoi aggiungere? No, 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 ce n'è sempre una che arriva e invece nessuno ha detto la parolina magica. Eccola! Eh no, infatti è strano che nessuno... Quando faccio questi corsi ai musicisti, subito, la prima risposta è Ah, finché non deposito la mia opera alla SIAE non ho il diritto d'autore. Che è un grande classico ed è una grande leggenda. Quindi in quanto leggenda, tendenzialmente falsa, molto falsa. Ah, in realtà, cioè, nessuno di voi ha sbagliato ma nessuno mi ha dato la risposta, quella giusta giusta. La risposta giusta giusta è nell'articolo 6, cioè sostanzialmente è la semplice creazione dell'opera. Quindi forse ad un livello ancora, cioè siamo ancora più a monte rispetto a quello che avete pensato voi. Cioè anche se solo metterci il nome, in realtà, anche un'opera anonima è tutelata dal diritto d'autore. Cioè io arrivo su un blog, scusate, non su un blog, sul sito, un sito web di informazione, no? E l'ho visto ieri, l'ho letto un articolo su repubblica.it, non c'era il nome dell'autore. Ogni tanto qualche articolo non viene firmato. Di chi è il diritto d'autore? Non lo so. Però c'è un diritto d'autore. Non vuol dire che se non c'è il nome, allora posso usarlo. Perché poi vado a leggere, a parte che sotto c'è tanto di copyright, repubblica.it, c'è tutto l'avvertimento, il disclaimer che ci dice, che ci redarguisce dal farne usi impropri, no? Però se io arrivo su una pagina web o su un brano in cui non c'è indicato un nome, ciò non mi autorizza a pensare che quell'opera non sia tutelata da diritto d'autore. Perché? Perché dice la legge, l'articolo 6, e questo è un principio che troviamo in buona parte degli ordinamenti internazionali di altri paesi che hanno una tutela di diritto d'autore o di copyright, cioè che appunto il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale è particolare l'espressione del lavoro intellettuale. Quindi vuol dire che è l'atto creativo che fa nascere il diritto, è sufficiente l'atto creativo. Ciò che qualcuno di voi aveva detto prima, cioè lui, sul discorso dell'adattazione certa, in realtà risponde a un'altra domanda però, che non è come acquisisco il diritto, è come dimostro l'acquisizione del diritto. E quindi siamo già ad uno step successivo, no? Per la questione dell'acquisizione, la legge dice che è sufficiente l'atto creativo, ovviamente si cerca il minimo di creatività, quindi deve essere un vero atto creativo e non una semplice riproduzione di qualcosa di preesistente. Per dimostrare la paternità, la risposta è esatta in realtà, nel senso che è sufficiente, secondo la legge in realtà non ne parla, la legge italiana, ma è stata poi la giurisprudenza, cioè le decisioni dei giudici a arrivare a questo concetto, che poi in realtà è anche abbastanza logico, no? Cioè è ovvio che se un autore riesce a dimostrare di essere in possesso di una copia dell'opera prima di tutti gli altri, a rigor di logica è ovvio che è lui quello che può vantare un diritto d'autore, punto. Infatti questo si dice nella nostra prassi giuridica, che è sufficiente riuscire a produrre una prova di anteriorità temporale, possibilmente con data certa. Vabbè, noi in Italia abbiamo un po' questo legame abbastanza stretto con la prova documentale, cioè nel nostro diritto processuale si basa molto sulla prova documentale, quindi riuscire ad avere un documento che sia datato con quella che la legge italiana chiama data certa, cioè una data attribuita ad esempio attraverso un meccanismo che passa dal vaglio di un ente pubblico, per cui c'è fede pubblica su quella data, ecco quella è la massima prova che possiamo produrre, ma in realtà non è l'unica, nel senso che l'anteriorità temporale la possiamo dimostrare in tanti modi. Vi faccio un esempio molto semplice per farvi capire com'è, l'anteriorità temporale ce l'abbiamo anche senza averla cercata necessariamente, ma quando vi laureate e dovete depositare l'attesa di laurea, almeno non so come funzioni qua, però quando mi sono laureato io a Pavia, c'è la limite dei 15 giorni, due settimane prima della seduta di laurea, dovevi depositare la copia, quella a uso archivio, che è quella rilegata male, che tanto sapete che va a finire solamente in un faldone di qualche archivio, perché ha uno scopo puramente legale di prova. È ok, però è una prova anche a vostro favore, nel senso che se il professore fa il furbo e dopo due mesi vuole pubblicare un saggio o un articolo a suo nome, e si piglia un bel pezzo della vostra tesi, voi siete abbastanza in una botta di ferro dal punto di vista della prova, perché? Perché ho un documento che è stato protocollato da un ente pubblico, il quale appunto fa fede sulla data certa in quel momento, perché? Perché il funzionario della segreteria studenti che ha preso in deposito il testo della tesi l'ha appunto protocollato e vi ha rilasciato tra l'altro, come succedeva all'epoca, adesso si fa molto in digitale, le università si stanno passando al digitale, quindi è diverso, però a me avevano rilasciato proprio un tagliandino cartaccio con il timbro e la firma del tizio della segreteria studenti in cui si diceva che Simona Riprandi aveva depositato in data tot, dicembre del 2003, la sua tesi di laurea e quindi aveva una prova di data certa senza necessariamente aver pensato al discorso del diritto d'autore. Ancora adesso probabilmente all'università di Pavia in qualche faldone nascosto o polveroso c'è una copia, poi non lo so perché dopo un po' di anni credo che le possano buttare via e lo facciano volentieri per liberare spazio. Però ok, capite quanti modi ci sono? Adesso ad esempio col passaggio al digitale tutto diventa molto più semplice e molto più anche economico, nel senso che non devo più pagare qualcuno, una volta c'era il metodo della raccomandata, ci si autospediva col timbro postale perché il timbro postale faceva data certa, però poi una sentenza della Cassazione aveva detto che il timbro postale faceva data certa solo se era apposto sul documento e non sulla confezione in cui c'era dentro il documento. Però adesso in realtà non ha molto senso parlare di queste cose perché siamo arrivati nell'era del digitale per cui ad esempio salvare un file con una firma digitale, quando dico firma digitale intendo una firma digitale quella con una smart card o chiavetta, quella che ad esempio in regione Lombardia è associata anche alla tessera sanitaria, oppure ad esempio mandarsi una PEC, la famosa PEC posta elettronica certificata, tra l'altro non è che una normale posta elettronica, che però, cos'ha in più della posta elettronica normale? Ha il fatto che fa sponda su un server pubblico il quale inserisce dei metadati che fanno fede pubblica della datazione, non solo della datazione ma anche dell'integrità del documento, dell'allegato e anche della ricezione da parte dell'altra persona. Quindi voi se ve la automandate non è un problema, se la mandate a qualcun altro avete anche la prova del fatto che Tizio l'abbia ricevuta in quella data, in quel momento specifico. Quindi di modi per avere la prova da paternità, come vedete ne abbiamo a bizzeffe, sono gratis, quindi non c'è bisogno di pensare necessariamente alla SIAE, è vero che nessuno di voi ci ha pensato, quindi fate eccezione come platea, ma spesso appunto quando parlo soprattutto ai musicisti questa cosa vi sconvolge, vi dicono, ma caspita ma io ho sempre pagato 60-70 euro per depositare i miei cd, e dice bravo, nel senso una volta si faceva perché una volta, anche lì SIAE perché lo fa? Perché anche SIAE può essere un'associazione di autori, ha anche un ruolo di ente pubblico, di ente che fa un controllo, quindi fa fede pubblica, certo, un deposito presso SIAE fa fede pubblica ma è veramente necessario? Poi uno magari ha la fortuna di avere lo zio che fa il notaio, no? E questo gli mette i timbri gratis su qualsiasi cosa? Beh certo, anche quello è, anzi, quello è veramente un documento che fa fede pubblica di fronte, perché è il massimo del pubblico ufficiale per l'ordinamento italiano è proprio il notaio, però vi invito a non ossessionarvi tanto con questa cosa, nel senso che basta avere una prova di anteriorità, poi come vi ho detto, modi per dimostrare l'anteriorità ne abbiamo molti, ad esempio anche la prova testimoniale, se qualcuno sbobinasse questa mia conferenza e volesse fare un saggio spacciandola per sua, io avrei 30 persone che possono venire ipoteticamente di fronte a un giudice e confermare che il 24 di novembre queste cose le ho dette io, no? È un'ipotesi fantascientifica, ovviamente queste cose non succedono veramente nei tribunali, però per dirvi che la prova di data certa la possiamo ottenere in vari modi senza dover necessariamente passare da enti che ci fanno pagare e facciano quel lavoro in modo appunto sistematico e professionale. Ok, se ci sono dubbi su questa parte, come avete capito no, questa parte oltre ad essere introduttiva aveva un po' lo scopo di togliere quelle leggende metropolitane, quegli equivoci in cui io spesso mi sono scontrato nei forum o anche nell'attività di formazione.